Ragazzi bentornati, io sono Dacon e questo è il sessantesimo episodio della mia serie su Minecraft. Ragazzuoli come state? Spero bene. Oggi ci troviamo qui per finalmente fare l'Iron Farm anche su quest'isola. Perché effettivamente ce n'era bisogno, io non ho più ferro, non ho più niente, ho il poco ferro che mi rimane e lo utilizzeremo proprio per fare quest'Iron Farm. E poi basta, potremmo vivere finalmente nel benessere, nella ricchezza. Ma intanto vi faccio vedere che cosa ha fatto la farm di Creeper. Come vedete siamo arrivati a un po' di stack di Gunpowder, finalmente funziona. Lo ha anche espansa facendo come vedete il secondo piano che secondo me aiuterà molto la produzione. Ma ora lasciamo perdere i convenevoli e iniziamo. Dobbiamo abbassare il livello di quest'area come abbiamo fatto esattamente con quest'area qui. In verità probabilmente dovremmo andare ancora più in basso dato che faremo la farm di ferro qua e poi scenderà di molto. Sarà un po' complicato ma cercheremo di farla anche perché la farm non si deve buggare. Se si bugga è un casino, cioè che se ci fa spawnare l'Iron Golem lì o qua, davvero la fine. Quindi ora inizierò a ritagliare metà di quest'area perché tanto non scenderemo di tutta l'area così tanto, non è necessario. E quindi direi che inizio e ci vediamo quando ho svuotato tutta l'area. Allora, prima di farvelo vedere vorrei dire che ci ho messo davvero molto effettivamente. Ci ho messo un pochettino. Ecco, sì, ok, ammetto che effettivamente è un buco molto profondo. Però a quanto pare questa è praticamente l'altezza perché qua in teoria c'è il piano inferiore. E quindi qua invece dovrebbe esserci lo zombie e consideriamo altri 3, 4, 5 blocchi. Beh, abbiamo dei problemi seri per quanto riguarda l'altezza, insomma. Ora semplicemente devo portare lo zombie in quel punto lì. In quel punto lì e chiuderlo con il vetro che ho qui. E poi potremmo praticamente costruire tutto intorno allo zombie e riuscire appunto a fare un bel, bel po' di robetta. Ma vi dirò la verità, probabilmente abbassiamo questo pilastro, facciamo più in basso la farm. E nel caso se spawnano gli Iron Golem sul fondo vado praticamente a semplicemente scavare tutto abbassando il pavimento. Perché alla fine il pavimento lo posso abbassare ma se faccio la farm troppo alta, beh, è davvero un casino. Per molteplici motivi perché se poi farò il pavimento qui spawnano sopra, eccetera, eccetera, eccetera. Se lo faccio troppo alto non posso fare il pavimento, quindi davvero un casino. Va bene, ora mi metto a cercare uno zombie aspettando la notte e distruggendo un po' delle mie torce perché altrimenti anche qui è un po' problematico. Dopo moltissime peripezie, eccoci. Dai, sali, su forza. Non so come ho fatto, ha tipo mezzo cuore al 100%. Io gli do la targhetta e lo chiudo subito qui dentro. Pericolosissimo. Io pure Thorns sull'armatura, pericolosissimo. Ce l'ho fatta, è dentro. E' entrato da solo, non ho fatto niente, letteralmente niente. Avevo una paura illimitata che potesse succedergli qualcosa. Va bene. Oh, va bene. L'ho fatta. Uno, due e tre. Anche questo è da spaccare. Per ora piazziamo ma uno, due, tre. Bene. E poi manca l'ultima parte. E tre. E si spacca anche questo. Bene, bene. Abbiamo già le zone dove devono stare i villager. Ora faccio una cosa del genere. Prendo il vetro e lo piazzo qua. Uh, manca l'ultima area. Bene. Uh. Si alza fino a tre il tutto. Poi si spaccano queste cose sui lati che non servono. Qua andiamo a fare una copertura per lo zombie. E successivamente qui si va a spaccare. Poi torcia, torcia e torcia. Spacco anche questo blocchetto qua. Ok, ho craftato tre letti che ci serviranno. Ci prendiamo tre minecart. Un po' di stone bricks. Stairs. Stone brick wall. Allora, un letto. Il secondo letto. Il terzo letto. Dopodiché qua si spacca. Prendo le scale. E le posiziono in questo modo. Qua ho sbagliato. Non ci va niente. Ho preso le rail. Ora scendiamo qui. Portiamo da qui i villici. Che è estremamente più facile portarli in basso che in alto. Facendo così. Indirizziamo il minecart. Portiamo come primo quello là. Dritto. E ora dobbiamo semplicemente andare dritti. Però mi costerebbe troppe rail. Quindi si va di qua. Così ci possiamo collegare a questa rail qui. E ora siamo a posto. Allora. Facciamo alzare questi villici. E cerchiamo di farli mettere sulle rotaie. Maledetto. Ok. Uno ce l'abbiamo fatta. Uno ce l'abbiamo fatta. Vai sopra. Bene. Ora ne manca un altro. Un altro abbiamo preso. Ora manca l'ultimo. Questo è un po' più complicato. Ed ecco l'ultimo villico. Ed ecco qui i tre villici. Prontissimi per il loro nuovo lavoro. Stava per fare una brutta fine? Stava per fare una brutta fine? Forse. Forse la giostra lancia il villico. Non è stata proprio la migliore delle idee. Allora. Mi devo spaccare il minecart? Guarda. Glielo spacco dopo. Glielo spacco dopo. Che altrimenti diventa solo che problematico. Allora. Giriamo di qua. E facciamo così. Non so quanto possa aiutare. Facciamo un po' più alto va. Così almeno non vediamo un villico volare giù. Vai vai piccolo villico! Bellissimo. Il lancio del villico è assolutamente approvato come sport. Ne manca solo più uno. Secondo villico che è appena volato. Allora qua spacco tutto. Ecco già spawnato un iron golem. Devo coprire molto velocemente tutta quest'area. Tutto l'iron golem giù. Questo va spaccato. Quindi si lascia. Diciamo due blocchi scoperti. In questo modo. Qua. Si va a fare così. Ora. Facciamo in questo modo. Almeno riusciamo. A piazzare più velocemente i muretti. Poi qua andiamo a mettere delle slab. Ed eccoci. Mi sono dimenticato i cartelli che vanno messi tutti qui. Però mi sono dimenticato anche di mettere un muretto. Bene. In questo modo siamo a posto. Ora un secchio qui. Un secchio qui. Così l'acqua fluisce in questa direzione. L'unico problema è che devo spaccare il minecart. Ok. Ho spaccato i minecart. Ora. I villager sono più che liberi. Spacco il pilastro qua sotto. E ecco qui. Praticamente la farm è finita. Cioè c'è ben poco da fare ora. C'è da uccidere questo Iron Golem. E lo ucciderò nella maniera più facile possibile. Ucciso. Ora. Dovremmo essere praticamente a posto. Allora. Poi andiamo sotto questo vetro qua. Ecco. E' caduto un altro golem. Spostiamo il golem. Andiamo sotto questo vetro qua. Qui. Guardiamo qua. E semplicemente scaviamo. Ora scegliete a che livello volete le chest. E nel caso del vostro pavimento. Perché effettivamente qui c'è il pavimento. Quindi. Andiamo a craftare una crafting table. Che metterò di qua. Che adesso non mi interessa. Ci serviranno nove o undici hopper in base a voi. Io ne farò undici. Anzi dodici. Perché tanto. Non importa. Metto una chest qui. E poi. Così. E così. Qua un bel blocco. E facciamo in questo modo. Abbiamo i nostri hopper. Ora. Se volete decorare l'area. La decorate. Molto semplicemente. Io adesso la farò in mattoni. E basta. Niente di più. Niente di meno. Mi basta questo per decorare. Quindi farò una cosa del genere. Ed ecco qua. Poi prenderò. Dei cartelli. Shift tasto destro. E andiamo a riempire. Tutta l'area. In questo modo. Dopodichè saliamo ancora. Facciamo così. E così. Oh. Ora abbiamo una bella pornace. Ora. Andate a posizionare il secchio di lava. Ma prima. Devo uccidere un attimo questo golem. Altrimenti non ne spawna un altro. Ecco qua. E abbiamo la pozza. Ora possiamo aspettare un attimino. E vedere cosa succede. Qua possiamo volendo abbassarci. In base. A come preferite avere il vostro accesso. Alla chest. Poi in base allo spazio che vi serve potete scegliere quante chest mettere eccetera. Io adesso ne metto almeno due. Così. E così. Vi consiglio. Se avete intenzione di fare. Diciamo la fornace qua per uccidere gli iron golem vicino alla farm. Di mettere le slab. E se siete troppo vicino al terreno. Io vi consiglio una distanza diciamo safe. Per così dire di dieci blocchi. In questo modo potete tranquillamente essere sicuri che i vostri golem spawneranno solo sulla piattaforma di lava. Cioè d'acqua scusate. E poi cadranno nella lava. Quindi ora mi metto qua a scavare altri due blocchi giusto per sicurezza. Perché altrimenti potrebbero spawnarmi qua e la farm si bloccherebbe. Perché sarebbe un problema. Ok. Qua sotto è tutto fatto. E ora andiamo a vedere se la farm funziona. Ehi aspetta un momento. Questo vende le nautilut shell. Un momento. Queste sono davvero utili. Cioè da droppare sono difficili per cinque smeraldi. Vieni qua piccolo villico. È la prima volta che mi torni utile. Me la date solo cinque. Solo cinque. Non sei mio amico. Va bene. Cinque nautilut shell. Non è male. Non è male. Allora. Intanto vediamo un attimino qua. Io sarei curioso di capire con feather falling se muoio. Proviamo dall'altro lato dove non c'è la lava. No. Sono molto soddisfatto di questa caduta. Vi dico la verità. Non capisco cosa ci sia che non va. So che c'è un altro iron golem. Però. Che sia davvero questo il problema. Uccediamo questo iron golem. Vediamo. Ora faccio anche un controllo rapido. Qua sotto. Cosa stai facendo? Va bene. Va bene. Ti aiuto. Ti aiuto. So che vuoi sbarazzarti le tue lama. Ti aiuto. Ti sto aiutando. E vai giù. Bellissimo. Non ho niente a dire. Non ho niente a dire. È qualcosa di fantastico. Sai che se continui così. I tue lama. Va bene. Non importa. Vabbè. Nel mentre che costruivo ho fatto uno stack. Non male. Finalmente il problema. Trazzetti è scongiurato. Eccolo. Eccolo un iron golem. Il primo. Questo è il primo. Molto bene. Il primo iron golem è morto. Ora si aspettano tutti gli altri. Tutti gli altri. Ragazzi. Vi ringrazio la visione. Iscrivetevi al canale per altri video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.